FUN! Numbers! B-b-b-b-biggest fan! Baba Yaga, uomo... nero. Sì... Grazie per il libro, Sharon. Dannazione, mi chiamo William. Quante volte dovrò dirtelo ancora? Già, giusto. Non è che potresti tenermi il cane? Ma certo, signore. Quel cane è così tenero. Come si chiama? Lui non ha un nome. Oh, mostro. How much are your hot dogs? Oh, mamma mia! Io non parlo inglese. Parla in italiano. Italiano, eh? So esattamente come dire voglio un hot dog in italiano. Tua madre è una fig... fig... di buttana... Tua madre è una figlia di buttana. Ehi, ma vaffalculo, testa di cazzo. Tua madre è una t***a. Già. Ma sto coglione è pazzo. Joey, mi spiace per stamattina. Non volevo fare il coglione. Io non sono Joey. Io sono Baba Yaga. Già. Amico, tu non sei John Wick. Fingere in questo modo porterà gravi conseguenze. Certo. Conseguenze. Joey, ti serve aiuto, amico. Hai la sindrome da Biggest Fun, eh? Su tutti i notiziari. Ba 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 Biggest Fan. Già, quella merda su YouTube, chiaro. Ma sparisci. Volevo dire... Biggest Fan? Certo. Mi stanno addosso. Hanno messo una taglia su di me. Deve trattarsi di quei tre uomini vicino al bancone. E si dà il caso che io abbia un arsenale con me. Già. Yo, stai lavorando? Già. Bella serata? Temo di sì. Ciao ragazzi. Se il video vi è piaciuto, come al solito, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E ora passiamo in salamuppa-ruppa-dubidubidubidubidupa. Allora, io che sono Sol ci tenevo a salutare Claudia Ricciarelli. Ciao, Claudia. Se vuoi venirmi a sfidare, vieni nella mia arena. Ciao, io sono Watson e volevo salutare Samuele Angelo Tozzi. Ciao, Samuele. Io e Sherlock ti aspettiamo per fumare il bong insieme, non mancare. Ho, 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 ho. Allora, io che sono Pippo ci tenevo a salutare Christian Pedrone. Ciao, Christian, fai il bravo. Oh, io. Ciao, io invece sono Kermit e volevo salutare Antofio. Ciao, Antofio. E se ti aspettiamo sulla sua arena, non mancare. Ciao, Antofio.